nuovo bando a favore delle imprese di Pistoia di Prato per progetti di innovazione digitale ed efficienza energetica a promuoverlo è la camera di commercio delle due province che il prossimo 27 di giugno illustrerà direttamente alle imprese interessate in un webinar il bando di quest'anno prevede degli interventi di sostegno alle imprese di a tutte le imprese delle due province di Pistoia e Prato per interventi sulle tecnologie digitali anche per interventi di efficientamento energetico quindi andremo a finanziare spese per consulenza e formazione in ambito digitale per l'acquisto di attrezzature sempre nell'ambito delle tecnologie abilitanti industria 4.0 finanzieremo anche attività di consulenza relative all'acquisizione di audit energetici finalizzati poi eventualmente all'installazione presso le imprese di impianti per la raccolta dell'energia da fonti rinnovabili. Quest'anno abbiamo deciso di aprire le domande il primo di ottobre fino al 29 di ottobre e i progetti per cui verrà chiesto il contributo dovranno essere già conclusi al momento di presentazione della domanda. Il budget messo a disposizione in un primo momento salvo appunto rifinanziamenti in corso d'opera è di 255.000 euro e i contributi concessi saranno pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 5.000 euro. Gli interventi ammissibili al bando dovranno avere un investimento minimo di 3.000 euro.